Grazie per essere venuti subito, cuccioli! La roulotte di François si è sganciata dall'auto! E tutti i suoi animali sono scappati via! Noi dobbiamo radunarli e riportarli al sicuro nelle loro gabbie! Per questa missione mi servirà... Rocky! Tu penserei a mettere il gancio giusto alla roulotte? Semaforo verde, signore! Marshall! I rettili e gli anfibi fuggiti adorano l'acqua! Tu dovrai creare delle pozzanghere con la tua pompa per attirarli! Pronto! E voglio dire, non aspettavo altro! Bene! Al lavoro, Poupatral! Marshall, usa il cannone d'acqua per creare una scia di pozzanghere! Subito! Cannone d'acqua! Ottimo, Marshall! Funziona! Adesso continua finché non arrivi alla roulotte! Ribbit! Sigmund! Da questa parte venite! Marshall! Prova ad attirare anche quei serpenti! Bella idea, Ryder! Gli piace! Certo che gli piace! Sono serpenti acquatici! Ciao, Katie! Hai trovato un serpente anche tu? Vorrei tanto! Qui è arrivato qualcosa di molto più grosso e dentato! Arriviamo subito! Coraggio! Eccolo là! Jimmy! Vieni da papà, Jimmy! Purtroppo non risponde sempre quando lo chiamo! In questo i coccodrilli sono un po' come i gatti! Non importa! Troveremo un altro modo per tirarlo fuori dalla piscina! Magari senza avvicinarci troppo! Sì, questo è vero! Il suo morso è peggio del suo abbaiare! Anche se a dire il vero i coccodrilli non abbaiano! A quanto pare lì piacciono la tartaruga gonfiabile e gli occhiali da sole! Cos'altro piace a un coccodrillo? Magari un altro coccodrillo! E come facciamo a trovarne un altro? Mi è venuta un'idea! Zuma! Mi serve il tuo aiuto! Allunghiamo un po' il muso! Aggiungiamo un po' di denti a guzzi! Bene, Marshall! Ora fallo verde! Cannone di vernice! Visto, Zuma? Sapevo che il tuo costume da drago poteva diventare un coccodrillo! Adesso proviamo a fare uscire Jimmy dalla piscina! Uhu, Jimmy! Sono il tuo nuovo amico coccodrillo! Dobbiamo attirare la sua attenzione! È ora di darci dentro sul serio, amico! Vai, Cocco! Vai, Cocco! Vai, Cocco! Vai! Sì, sta funzionando! Corri! Andate verso la roulotta! Va bene, Ryder! Ci andiamo! Oh, Xander! Oh! Da questa parte, Jimmy! So che ti piacciono gli occhiali da sole! Ottimo lavoro, ragazzi! Ma Xander è ancora in giro! E invece no! Eccolo là! Oh! Oh, Xander! Tu mi sei mancato più di tutti! Paw Patrol! Vi siete superati stavolta! Grazie! Non c'è di che, François! Ci ricordi? In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Iniziamo la mostra felina con la gara di talento! Eccellente! Miau, miau! Fai vedere a tutti quanto siamo talentuosi a Foggy Bottom! Nemmeno io so fare tutte quelle giravolte! Già! È vero, ma c'è qualcosa che non mi torna per niente in quel gattino! Non starnutisco! E non avete visto ancora niente! Preparatevi al prossimo numero! Wow! È sorprendente! Ora passiamo alla seconda fase del mio piano! Tocca a voi! Eccellente! Forza! Andate a preparare la sorpresa finale! E tu apri il fuoco a volontà! Oh, non c'è nulla di più tenero di una vasca piena di gattini infangati! Adesso Miau, miau vincerà di sicuro! Wow! Miau, miau è un vero asso del ballo! È il momento di passare agli altri concorrenti! A chi tocca? Beh, Kelly sta facendo un riposino, quindi tocca... Dov'è Daisy? Oh, è andato da quella parte? Insieme a tutti gli altri gatti? Oh cielo! La mostra è diventata una vera gattastrofe! Devo chiamare Ryder? Grazie al cielo siete qui! Sono preoccupata per quei gattini! Ci pensiamo noi, Katie! Marshall, Rubble, preparate la vostra attrezzatura! Ci sono dei gattini da salvare! Sì! Sì! Li abbiamo presi tutti, Kat! Grazie, Pou Patrol! La mostra pelina può andare avanti! E ora il prossimo concorrente, Kali! Adesso è ora dei gomitoli di lana! Oh, ottimo lavoro! Sì! È arrivato il momento di farle vedere chi fa sul serio! Fantastico! Incredibile! Oh, oh! Sarà meglio che porti via subito! Miau, miau! No! Ho detto via! Non volare via! Mi ricevi, Sky? Ti sento, Ryder! Abbiamo un gatto volante qui! Ecco che cosa devi fare! Eccola! Vieni duro, Kali! Oh, non riesco a controllare! Miau, miau! Lascia il robot, Sky! Kali ha bisogno di te! È in fretta! La prendo io! Sì! Ottimo lavoro, Sky! Sei una scheggia volante! Grazie, Ryder, Sky e a tutti voi! Non c'è di che! In ogni occasione... Noi siamo a disposizione! L'esibizione di Miau, miau magari... È stata atipica! Ma è senza dubbio il gatto più spettacolare della mostra! Lo prego, ma è stato squalificato! E noi non ammettiamo finti gatti robot a questa mostra felina! Ma di che cosa sta... Parlando? Solo perché è in grado di volare? A riparo! Kali, gattini, niente paura! La Paw Patrol arriverà in un batter d'occhio! Il sistema di difesa del cubo entrerà in modalità sicurezza estrema entro 12 minuti! Modalità sicurezza estrema? E che cos'è? Tra 11 minuti, la modalità sicurezza estrema volterà il cubo a livello meno uno per una protezione maggiore! Buona giornata! Oh no! Dobbiamo agire in fretta! Le comunicazioni con il cubo sono ancora bloccate! Sky, trasporta Rocky così potrà spegnere quei laser! Gancio! Potrei mandare in corto il sistema se riuscissi a dirigere i laser contro se stessi! Specchio! Qui va bene, Sky! Proviamo! Ce l'hai fatta! Bravissimi cuccioli! E ora apriamo quell'ingresso! Come va con la porta, Rocky? Mi dispiace, Ryder! Non riesco a sollevarla! La porta si solleverà grazie al riconoscimento facciale. La telecamera interna deve riconoscere il volto del sindaco Hamdinger. Dopodiché la porta si aprirà. Ma il sindaco Hamdinger non è qui! Sì, e non c'è modo di raggiungere Katie! E ci resta poco tempo! Rubble, devi venire al covo del sindaco Hamdinger presto! Rubble come un ragzo! Perfetto, Rubble! Adesso usa la trivella per fare un buco sul tetto. Così facendo, tireremo fuori Katie e i gattini. Questo tetto di roccia è duro, ma la mia trivella lo è di più. Ci siamo quasi! Le vibrazioni indicano un tentativo di infrazione. Se le vibrazioni continuano, il conto alla rovescia per la modalità sicurezza estrema verrà accelerato. Rubble, fermati! Katie, riesci a sentirmi? Ryder, ce l'hai fatta! Ci siamo quasi, ma purtroppo non possiamo allargare ulteriormente il buco. Dobbiamo ingannare la telecamera di sicurezza per aprire la porta. Nessun problema, ma come facciamo? Per farlo ti dovrò travestire da sindaco Hamdinger. Ci provo! Per prima cosa mi serve un cappello. Gattini? Ryder, penso di aver trovato il modo per far uscire i gattini. Va bene, ma fa presto. Mancano sei minuti. Gattini? Preparatevi a salire su una torre di cappelli. Questo è il modo perfetto per concludere le mie commissioni. Spaghetti da asporto per pranzo. Quello era l'ultimo gattino, Ryder. Grazie, Rubble. È stata un'ottima idea, Katie. Adesso dobbiamo tirare fuori te e Kali. Kali non vuole uscire senza di me. È il sindaco Hamdinger che parla. Apri la porta, per favore. Il riconoscimento facciale indica che tu non sei il sindaco. Il sindaco Hamdinger. Ripresa del conto alla rovescia. Mancano tre minuti. Ryder, mi servono dei baffi finti. Ma qui non ho modo di procurarmeli. Vedrai, troveremo un modo, Katie. Non ho mai fatto dei baffi finti prima d'ora. Ehi, ma che cosa ci fa la Paw Patrol nella mia Fuggy Bottom? Vogliamo salvare Katie prima che il suo covo scenda sotto terra. Macca un minuto all'inizio della modalità sicurezza estrema. Cosa? Vuol dire che il sistema di sicurezza del mio covo è in funzione? Temo proprio di sì, ma non lo possiamo spegnere se non riusciamo ad entrare. E il buco nel soffitto è troppo piccolo. C'è un buco nel mio soffitto. Era stata una giornata così bella. Ma almeno ho ancora gli spaghetti. Ci sono. Faremo dei baffi finti con gli spaghetti. Forchetta! Sindaco Hamdinger, posso avere un po' di spaghetti? E va bene. Ben fatto, Rocky. Sky, devi consegnare dei baffi finti a Katie. Vado! Presi, grazie. È il sindaco Hamdinger che parla. Per favore, apri la porta. Il riconoscimento facciale indica che tu non sei il vero sindaco Hamdinger. Non mi resta molto tempo. Devo aggiustare questi baffi. Avrò bisogno di tutte le mie abilità da acconciatrice. Salve, sindaco Hamdinger. Apertura della porta di sicurezza. La modalità di sicurezza estrema è attiva. Dov'è finito il mio covo? Rider, Poe Patrol, grazie per avermi salvata da quel posto troppo sicuro. Non c'è di che, Katie. Ogni volta che resti bloccata dentro un super covo, noi siamo a disposizione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti